Nina Mouric assente al compleanno del figlio Carlos Maria, fa troppo male Il figlio di Nina Mouric e Fabrizio Corona, ha festeggiato 22 anni in compagnia del padre e della nuova compagna, Sara Barbieri L'ex modella croata non ha nascosto la sua sofferenza nel non poter trascorrere il compleanno insieme a Carlos Maria L'ex modella croata non ha nascosto la sua sofferenza nel non poter trascorrere il compleanno insieme a Carlos Maria Nina Mouric e le parole per il figlio Tutto quello di cui hai bisogno di sapere è che ti ho amato, ti amo e ti amerò per sempre L'ex re dei paparazzi ha postato una foto con il figlio, per sempre fino alla fine dei miei giorni riprendendo Carlos a cena insieme alla sua fidanzata e il brindisi per le sue 22 candeline Grande assente, Nina Mouric che si è sfogata sui social Al momento non sappiamo il motivo per il quale l'ex modella croata non fosse presente, ma ciò che è sicuro sono le condizioni delicate del primo genito, che soffre di psicosi acuta transitoria e ha spesso dovuto sottoporsi a delle cure specifiche Qualche settimana fa, la Mouric aveva pubblicato un messaggio della madre di Corona che l'aveva attaccata nel suo ruolo di genitore, pertanto i rapporti con la famiglia con l'ex marito non sono affatto idilliaci In occasione del compleanno e della lontananza alla quale è stata evidentemente è stata costretta, Nina ha scritto Ricordo il momento in cui sei nato. Il dottore ti ha messo fra le mie braccia e io ho capito che stavo tenendo l'amore più grande della mia vita Sono passati tanti anni da quel giorno, ma l'amore è sempre lo stesso. Non cambierà mai. Amore mio, oggi è un giorno speciale. È il tuo compleanno Un giorno che va celebrato. Ma io ti celebro tutti i giorni. Anche questo non cambierà mai. C'è tanto altro ancora che porrei scrivere. Ma non lo farò Tutto quello di cui hai bisogno di sapere è che ti ho amato, ti amo e ti amerò per sempre. Un amore senza riserve e incondizionato. Tua mamma, Nina E poi, ancora Fa troppo male Il matrimonio tra Fabrizio Corona e Nina Mouric è stato una delle storie più discusse e seguite dai media italiani negli anni 2000 La coppia, formata da due personalità forti e carismatiche, ha catturato l'attenzione del pubblico sia per la loro bellezza sia per la loro vita turbolenta L'ex fotografo dei Vipe e personaggio noto per il suo carattere ribelle e L modella croata affermata in Italia e del mondo, si sono sposati nel 2001 Il matrimonio tra Corona e la Mouric è stato segnato da numerosi alti e bassi, scandali e problemi legali, soprattutto legati alle attività di Fabrizio Nel 2007, la coppia ha deciso di separarsi ufficialmente La separazione è stata seguita da un lungo periodo di tensioni, accuse reciproche e battaglie legali, soprattutto per la custodia di Carlos Maria Oggi 22enne che ha avuto diversi problemi di salute, una malattia psichiatrica di breve durata, la psicosi acuta transitoria Nel terinyo Nel 7 Nel Nel